Popolari Glocalizzati Notizie Direttore Maurizio Compagnone Buongiorno dalla redazione. Secondo appuntamento con l'informazione. In apertura ISIS, lo Stato Islamico ha annunciato di aver preso in ostaggio centinaia di persone dopo un attacco condotto contro il villaggio siriano di Tel Tamer, nel corso del quale una chiesa cattolica è stata data le fiamme. Il numero dei prigionieri non è stato confermato, ma in base a quanto si è appreso, i jihadisti avrebbero chiesto la liberazione di loro membri in cambio del rilascio degli ostaggi. Nel frattempo lo Stato Islamico torna a minacciare l'Italia via web. A quanto riportato dal sito di monitoraggio delle pagine web di matrice fondamentalista islamica, un jihadista avrebbe ammonito l'Italia dall'entrare in guerra contro lo Stato Islamico per evitare che il Mediterraneo sia colorato dal sangue dei suoi cittadini. La minaccia parla di possibili lupi solitari in territorio italiano. Le nostre intelligence lavorano alla sicurezza del paese anche se avvertono che gli attacchi di persone isolate sono difficili da prevedere. La tensione comunque assicurano essere ai massimi livelli. Ieri il procuratore di Reggio Calabria aveva ammonito anche sulla possibilità di una collaborazione tra ISIS e criminalità organizzata. Il nostro stato di allerta è notevolissimo, il controllo sugli arrivi efficiente. Collaboreremo con le procure e auspichiamo che il loro lavoro ci dia certezze dal punto di vista giuridico, ha affermato il ministro dell'interno Angelino Alfano. In Africa nel frattempo 25 ostaggi, tra cui donne e bambini, rapiti il 29 gennaio dalle milizie islamiche di Boko Haram in un villaggio del Camerun tenute prigioniere in Nigeria, sono riusciti a fuggire dopo aver fatto di notte un buco in uno dei muri della loro cella. Il conflitto ucraino, i separatisti filorussi tornano ad accusare il governo di Kiev di aver completamente bloccato alle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk l'accesso al territorio ucraino orientale controllato dalla capitale. Nessuno può partire senza un passa, ha denunciato lo speaker del Parlamento secessionista di Donetsk. Basta avere la residenza Donetsk e Lugansk per vedersi negato l'accesso all'Ucraina, ha aggiunto. La notizia trova conferme in un decreto governativo nel quale Kiev introduce di fatto un nuovo regime di confine. Questa era l'ultima notizia e l'informazione torna alle 14.30 circa. Vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.